Gli agenti della squadra mobile di Matera hanno denunciato in stato di libertà una donna di 52 anni, residente nella città dei Sassi, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, perché è responsabile di furto aggravato commesso in un negozio. Nei giorni scorsi un noto negozio di pelletterie ed articoli da regalo ubicato nel centro di Matera ha subito il furto di una borsa dal valore di circa 50 euro. Il furto è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza del negozio, le cui immagini sono state visionate dagli agenti della polizia. Una donna, dopo essersi fermata all'interno del negozio fingendo di visionare degli articoli, ha approfittato di un momento di distrazione della commessa e si è impossessata repentinamente della borsa esporsa in vetrina, per poi allontanarsi velocemente. Nonostante indossasse una mascherina di tipo chirurgico, è stata riconosciuta dalla polizia per aver commesso furti analoghi in passato. La donna è stata rintracciata presso la sua abitazione, all'interno della quale è stata rinvenuta la borsa rubata nel negozio. La 52enne è stata denunciata e la borsa restituita al titolare del negozio.